eccomi qua avete visto un do di petto impara a volerti bene che a volerti male ci pensano già gli altri guardate che meraviglia questo articolo e sentite come vibra sentite ma anche intermittenza ma pensate che goduria una volta che l'avrete infilato nel cassetto una volta che l'avete infilato nel cuscino una volta che l'avete infilato nella finestra una volta che l'avete infilato insomma dove avrete voglia di infilarvelo voi è tutto elettronico adesso no 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 ma sentite che inter... ma è peggio di vostra suocera ma è molto peggio di vostro... no ma potete anche usarlo tra l'altro quando vi mettete delle creme antrughe in viso vedete è la genialità femminile ma guardate che meraviglia... a presto